Allora, Max Gioni da New York, grazie di esserti collegato con noi per parlarci un po' del mondo in cui viveva Paolo Scheggi che nel 1961 è arrivato a Milano e quindi è entrato in contatto con tutto un mondo di artisti che in quel periodo sperimentavano e rappresentavano un po' l'avanguardia artistica italiana, penso a Fontana, Bonalumi, Manzoni, Colombo, Castellani, Biagi e tanti altri e poi naturalmente tutto quel mondo di artisti anche letterati che poi fanno parte del gruppo 63 penso ad esempio a Doardo Sanguinetti che aveva conosciuto Scheggi. Ecco, com'è l'ambiente artistico milanese in quei primi anni 60 appunto dominato dalla ricerca avanguardistica? Beh, innanzitutto buongiorno e mi spiace non essere a Parigi, mi collego da New York e vi saluto tantissimo e di nuovo mi spiace non essere lì. Ovviamente la mia percezione di quegli anni è probabilmente ricostruita e romanticizzata attraverso quello che ho appreso dai libri, dalle riviste, dalle esposizioni di quegli anni ed è tinta probabilmente di una sorta di nostalgia più o meno mal riposta per un momento in cui l'Italia sembrava parte di un dialogo internazionale con una grandissima forza e presenza quando poi in realtà probabilmente i nuclei di quell'avanguardia erano anche molto molto piccoli ed era un'avanguardia ruspante in un certo senso. Mi ricordo Ottopine, questo artista, membro del gruppo Zero, che aveva molte relazioni con il gruppo Azimut, con Manzoni, con Fontana, mi raccontava che per l'avanguardia della pittura di inizio anni 60 la 500 di Manzoni aveva potuto più che, che ne so, tantissimi altri stimoli o dibattiti internazionali. Questo per dire che appunto quella che oggi identifichiamo comunque come una pagina straordinaria della storia dell'arte, della storia della cultura italiana e che ci appare eroica era probabilmente molto più modesta e costruita su rapporti personali immediati e anche molto più quotidiani. Ecco, io come mi immagino Milano nel 61, penso, da una parte c'è un libro bellissimo di Luciano Bianciardi che si chiama La vita agra, che è un ritratto di Milano con le sue contraddizioni, da una parte l'accelerazione straordinaria del boom economico e la nascita di una nuova industria culturale che è quella della Feltrinelli, che è quella delle grandi case editrici, dall'altra c'è la sopravvivenza di un'Italia rurale che poi magari sarà quell'Italia che si ritrova qualche anno prima anche nella letteratura di Pasolini, se vogliamo, e quindi anche questo scontro tra ipermodernità e sopravvivenze rurali, anche contadine, anche provinciali, con Bianciardi che presenta una grande critica anche dell'ipermodernità e della nuova cultura dell'industria culturale. Dall'altra c'erano, per usare una distinzione che Umberto Eco renderà fortunata da lì a qualche anno, se da una parte c'erano gli apocalittici, di cui forse Bianciardi è un'espressione, e anche Pasolini in un certo senso, dall'altra c'erano gli integrati, di cui gli artisti come Fontana, come Manzoni, come quelli dell'arte programmata erano interessanti esemplari, ovvero affascinati dalle nuove tecnologie, affascinati da nuove teorie della letteratura, della musica d'avanguardia, affascinati appunto da idee di partecipazione che Umberto Eco poi raggrupperà sotto la fortuna d'etichetta di opera aperta, se non sbaglio, nel 62, e quindi appunto questo contrasto che semplifico tra apocalittici e integrati, tra una voglia di futuro che si invera anche nella scelta dei materiali. Io mi immagino che tutto sembrasse fatto di plexiglass in quel momento a Milano, sia nel design, sia nelle opere d'arte, le superfici magari più cromate o lucide appunto di certe opere di Fontana o di Manzoni anche. Eco tra l'altro nel 62 pubblica la sua introduzione ad arte programmata che è questa mostra che si tiene nel negozio Livetti in Galleria Vittorio Emanuele, se non sbaglio, e immagina appunto anche un nuovo ruolo, una nuova figura per l'artista, che è quello di un misto tra un ingegnere e anche un ingegnere sociale o comunque un riformatore in tutti i campi, dell'estetica, del design e se vogliamo anche del design sociale. Eco ha scritto bellissimi saggi, tra l'altro in quel momento ce n'è uno straordinario pubblicato nel catalogo di Italian Metamorphosis, che è una sorta di revisione della sua posfazione a opera aperta in cui coglie appunto anche le trasformazioni dell'Italia attorno al 1962 in maniera precisissima. Una delle caratteristiche di questi anni è proprio la ricerca interdisciplinare, l'idea di far saltare gli steccati, di far saltare i confini di ogni arte, di ogni disciplina e da questo punto di vista, secondo te, quali sono stati gli aspetti più interessanti di quella stagione, anche proprio dal punto di vista proprio artistico, quali sono stati i nomi che più secondo te sono significativi di questa ricerca, al di là appunto anche del caso Schedge, che stiamo appunto indagando questa sera. Sì, come sempre sai, quando si guarda alla storia o si tenta di costruire una storia, è sempre una visione parziale e a ritroso, quindi è difficile dire esattamente ciò che ci appare oggi come fondamentale in quel momento, era probabilmente parte di un paesaggio molto più stratificato e complesso. Questo lo dico perché quali sono i nomi che poi magari diventano internazionalmente più celebri? I casi piovi sono Manzoni e Fontana, che sono oggi stranoti e celebrati anche dal mercato. Fontana era un artista che pensava ai quadri, all'ambiente, pensava anche alla moda, pensava ai gioielli, perché nasceva anche da una tradizione futurista, era un artista che pensava all'arte come ricostruzione dell'universo per usare la formula di Balla e quindi in quell'aspetto aveva già una tensione interdisciplinare. Manzoni era più conchiuso nello spazio dell'arte e la sua era una riflessione in un certo senso più filosofica che andrà ad avere anche una grande influenza sulle pratiche concettuali, ma era penso meno interessato a una riforma del mondo. Oddio, molte di queste avanguardie, ed è un aspetto che forse si studia ancora poco in Italia, erano anche affascinate a un'idea di revisione di ogni pratica dell'esistere. L'avanguardia è sempre anche affascinata da nuovi valori etici, da nuovi modelli di associazione, di comportamento. Questi aspetti magari sono meno evidenti in questa avanguardia degli anni Sessanta Milano, ma di sicuro, se pensiamo anche nel campo della letteratura, del costume, hanno un impatto straordinario. Ecco, per concludere, quello che voglio dire è che il campo in cui forse si pensava più strettamente all'interdisciplinarità era quello forse appunto dell'arte programmata, in cui addirittura il modello dell'artista doveva dissolversi, no? Il sogno, se vuoi, dell'arte programmata e di tanti altri movimenti di arte neoconcreta negli anni Sessanta, come la cosiddetta Nouvelle Tendance o come Grave in Francia e come molti altri movimenti o l'arte cinetica che in Francia conosce anche un grande successo. Tutti questi movimenti avevano un'idea dell'artista come appunto ingegnere e come riformatore sociale e paradossalmente se si fossero avverati tutte le trasformazioni che auspicavano nei loro manifesti e nei loro mostri, l'idea stessa di arte si sarebbe dissolta in una sorta di pratica sociale ed estetica diffusa, no? L'arte programmata, anche nell'uso del multiplo piuttosto che il quadro individuale, sogna un'idea di estetica e di stimolazione dei sensi nella vita quotidiana in cui nel futuro non ci sarebbe neanche più l'artista. O saremmo tutti artisti o... Ecco, quegli aspetti sono forse confluiti di più soprattutto a Mitellano e in Italia nel design e nell'architettura e hanno avuto un fortissimo impatto in quel senso. Per concludere questa nostra conversazione volevo ricordare una frase di Edoardo Sanguinetti che è stato uno dei teorici della neoavanguardia del gruppo 63 appunto e di quella stagione artistica e culturale che scriveva Ogni avanguardia finisce in museo. Il destino dell'avanguardia è quello di finire in museo che all'epoca fece, come dico, una frase di questo genere faceva scalpore ma era la realtà. Oggi Scheggi, Manzoni e tutti quelli che e gli altri artisti che abbiamo citato sono tutti nei musei. A, diciamo così, praticamente più di mezzo secolo di distanza qual è il bilancio che si può fare di quella stagione e che cosa ci resta e che cosa ci ha insegnato in fondo se è possibile così in poche battute riassumere un discorso che probabilmente sarebbe molto più complesso. Sì, addirittura tu da esperto e conoscitore del gruppo 63 ovviamente ricorderai dell'altra grande accusa al gruppo 63 che era quella di essere una avanguardia in vagone letto ovvero appunto di essere integrati in una società dei consumi e dell'accelerazione che secondo formule diciamo magari più stantie dell'avanguardia dei loro genitori dovevano, apparivano come compromesse l'idea che appunto l'avanguardia fosse in vagone letto o viaggiasse in aereo appariva magari ai Pasolini e agli altri una forma di compromesso con un sistema di consumi che in teoria l'avanguardia avrebbe dovuto criticare. Ecco, quello è un altro aspetto molto interessante anche della compagine diciamo di Azimut o la compagine della strazione razionalista di Milano soprattutto negli anni Sessanta c'è nel primo, nel secondo numero di Azimut c'è un breve testo di Gillo Dorfless che si intitola se non sbaglio Informazione e consumo ed è molto interessante che immediatamente colga quella duplicità che in fondo definisce anche molto del dibattito attorno all'arte di oggi informazione quindi la cultura digitale questo anche essere nostro ormai vivere attraverso i media e dall'altra il consumo che definisce distorce o comunque che applica una pressione completamente nuova sul ruolo e la responsabilità dell'artista. Come dice poi molti di questi artisti oggi sono canonizzati sono nel museo forse vale la pena ricordarsi appunto che molti di questi erano ragazzi forse anche un po' troppo solo ragazzi anche quando c'erano molte ragazze quindi dovremmo aprire anche il museo alle Nanda Vigo alle Dadamaino e a tutte le ragazze di quel momento ma ecco un aspetto che forse era da considerare era anche quello di di un movimentismo e di una modestia che magari si perde nel museo cioè quando Fontana apriva il suo studio a questi ragazzi e scambiava tele, opere era una relazione completamente diversa come forse ma quello lo saprai meglio tu immagino anche che quelli che oggi sembrano i leggendari incontri del gruppo 63 erano probabilmente anche cose di di una modestia assai diversa che poi nel cannocchiale della storia ci appaiono ingrandite e e credo che quello sia un aspetto anche da recuperare no? questa se vogliamo questo movimentismo questa immediatezza di quegli scambi che continua tutti i giorni nella comunità di tanti artisti no? c'è una una bellissima espressione di di Rauschenberg e Jones non mi ricordo chi dei due no? che dicono che l'uno era come dire il il lettore il primo lettore dell'altro no? e spesso queste rivoluzioni che poi vengono consacrate ai musei partono da relazioni personali in cui un artista diventa diciamo il lettore modello di un altro una piccola comunità di 5, 6, 10 artisti è il pubblico necessario per creare queste rivoluzioni di gusto ed estetiche e quello è anche un pensiero che credo ci possa rincuorare in questi momenti che come dire le rivoluzioni artistiche non probabilmente non sembrano tali nel momento in cui avvengono o sono molto più molto più modeste molto più semplici e sempre basate su rapporti interpersonali immediati scusa una conclusione un po' sentimentale sentimentale ma hai ragione perché è giusto mantenere recuperare se non altro la dimensione della spontaneità che era molto forte molto presente appunto in queste piccole rivoluzioni dell'avanguardia perché è inevitabilmente quando poi si finisce nel museo si finisce in balsamati e quindi quella spontaneità rischia di essere persa senti io ti ringrazio ti ringrazio di essere stato con noi ti saluto spero di poterti ospitare presto qui a Parigi e auguri per tutto naturalmente in questa fase un po' difficile per tutti grazie anche a te e felice di averti finalmente incontrato in un modo un po' non personale ma almeno un po' più modesto e fisico dei soli email grazie a tutti grazie a tutti